si, si vinto eh questo non tira un cazzo che lancio è quello su? si scopo il su eh? che cazzo dai pugni aspetta 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 un ball deve venire a te pesa out lui è abitato a fare l'esterno l'esterno la tira all'interbase di solito vedi come funziona un out oddio oddio bicchia si ammazzava diretta